Ehi due, ci pensi qualche volta? Ci penso, ci penso sì, faremo come fanno tutte le coppie che vivono a distanza, Skype, ci vediamo una volta al mese Ma che cazzo dice una volta al mese a Sidney? No, ogni due Ciao Io direi è una cosa brutta Anch'io ci dovete fare una cosa No, non è meglio se te lo vedi E dai famoressi tonati? Ciao 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 Ciao